Io voglio che vi incontri un'altra, no perché Giancarlo non fa sempre la birra, io ho un ragazzo che stai mai fai, ho messo per fare un'occhiazza adesso, ho detto che mi chiede un po'. All'arrivo in Caleterno, ho detto ma se non c'è che? Ho detto no, non c'è, ho bisogno di portare il certificato. Ho detto che cosa è? Che certificato? Ho detto il certificato costante, il rettorario. All'arrivo in Caleterno, ho detto che bisogna andare a portare. All'arrivo in Caleterno, ho detto che il 5 aprile, ho detto che è bello perché le tante stanno all'arrivo, bisogna andare a portare i gombechi, perché io ho un gombechi che ne ho capito più niente. Voi l'avevo un po' che insiemeva l'insegnava in corsa. All'arrivo in Caleterno, ho detto che fai scorsa, fai presto a finire, mi ha detto Giancarlo a voto per il pipì. Se il partizio popolare ha detto che non c'è più, ma non c'è più. Alta che fai. All'arrivo in corsa. All'arrivo in corsa. All'arrivo in teoria. All'arrivo in corsa. All'arrivo in corsa. Adesso è meraviglioso, oi beh, la roba di volta che era buona l'abbiamo più. Allora, diciamo, a me ha detto, scolta-moi Giancarlo, senza farmi, me ne vengono presi. A me dice, non fate mica bene, diciamo, asciam per albertà dell'astinenza. Certo, ma c'è, quello che dice Ivan Briggs, l'astinenza, insomma. Ha detto, non va bene, non va mica bene, perché adesso che abbiamo ottenuto il suffragio universale, l'azza pur di, ora questo fa piacere. Si, ha detto, non perché a me, ha detto che a Rosari tutti i dei, non è sempre il suffragio delle anni mesi santi del purgatorio. Troppo se l'ha vengut nulla per la costa. C'è una specie d'indulgenza plenaria, se sa, posto, sa. Ha detto, scolta-moi Giancarlo, ho detto, ma sobrise per chi votare, ma a volte per qui un tarda manier, si fa piacerebbe il passaggio. E' un ilizio che non è partito e partireà. Ha detto, non ti scusate bene. Ho detto, ne vedete più di partivismo e ne vedete nuove. la roba nuova. All'inizio ci sono le leggi, ma è nuova. Beh, se io ero una ragazzolata a me che diceva, se i fristi smettano in lega e tagliate la testa tu. E' la mia nuova. Beh, scusate ma, dopo a me spiegare perché a me dicevo, scusate ma, voi votate come fervo e poi vincere che si può dare una preferenza. Voi qualche preferire? Abcidere. O di questo lo va proprio bene. Si, perché mi scusate ma a dire, a Boulogna sonde come la Boulogna. Se il maestello è alla fira di Calpecli, eh? M'ho sfat d'altonare, ecco ma, a me tanti neanche a dire, scusate ma, parla estremot, ma ho brutto da morire. Beh, scusate ma, mi sa io da dare la preferenza a Daga Casini. Si, si, Daga Casini perché le mei, le mei ascea. Ha diso, ha diso, per Ferdinando, per Ferdinando, per Ioffo, per Bappe, per chi ci dirà sia nei volandesi. Grazie. 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 Grazie.